Allora, sostanzialmente è un'idea di Valerio Gaffurini che ha deciso di sotterrare l'ascia di guerra, sostiene che noi possiamo combattere qualsiasi guerra dal divano, abbiamo già consumato troppa trincea e quindi è un disco domestico, un disco molto diverso dal solito e abbiamo cercato un approccio molto acustico, romantico, tra virgolette. Noi e Valerio suoniamo da dieci anni praticamente insieme e abbiamo fatto un percorso musicalmente molto burrascoso, molto appariscente, molto carico nei toni, anche lo spettacolo molto particolare, per cui forse anche perché anagraficamente siamo un po' più saggi, si dice così, abbiamo scelto di fare una roba un po' più soft, più ragionata, meno istintivo, più dolce. Ma avevamo bisogno anche noi di fare un minimo di riflessione, di fermare un po' i fuochi d'artificio e quindi abbiamo pensato ad un disco, avevamo un pugno di canzoni in mu che si prestavano molto a questo tipo di suono. L'idea iniziale era proprio un disco piano e voce, poi alla fine abbiamo aggiunto anche una sezione ritmica perché ci servivano dei colori in più, però è un bel disco, sono molto contento perché è molto rilassante. Rispetto allo standard delle produzioni precedenti non c'è quello che può essere definito un concept, non hanno un filo logico conduttore, sostanzialmente l'unico filo logico è proprio il divano. Abbiamo presentato sabato in teatro al Teatro delle Ali a Breno, è stato un successo, lo spettacolo è molto riuscito e quindi siamo molto contenti, ovviamente lo presenteremo ovunque ma bisogna che qualcuno ci chiama. Ho iniziato metà anni 90, all'inizio proprio con il cantautorato italiano da De Gregorio e De Andrè a Paolo Conte, poi scorribande rock e roll varie con Bacco il Matto, con i Cantina Occupata e poi tra una scorribanda rock e l'altra una produzione come cantautore, come Alessandro Duccoli, che questo è il decimo disco e basta fino a trovarsi oggi con 22 album credo. L'album si trova sugli streaming store, quelle lì che oggi vanno tanto di moda, si trova ai miei concerti, il sito è orribile, però siccome ogni volta devo chiedere la cortesia a qualcuno, chiedere anche la cortesia di farmi un sito, poi doverlo aggiornare, sono abbastanza paleo informatico per cui ho questo problema, il sito ducoli.eu, c'è più o meno tutto, pure la pagina di Facebook che oggi va ancora più di moda dei siti e devo dire che funziona, è un vero social network, così si dice.